Fatto sta che una volta ho fatto serata all'all fashion di Caprio, che era giovanissimo, che faceva il modello per Armani. Pensa a te, io facevo il modello. Facciamo parlando del 90-91, avevo 16 anni, di Caprio, anche lui lì era giovanissimo. E una volta andai, a 17 anni, a una festa bellissima, me la ricordo, e ho anche qualche foto, la vedrete in un documentario. Andai a una festa all'Ippodromo, oggi si chiama in un altro modo a Milano, la festa di Versace, c'era Gianni. Tutti ubriachi, alle 5 del mattino, c'era Tupac che ballava a torso nudo con me, insieme a Tre Fighe. Assurdo. Ma non era ancora Tupac, era Tupac in quella fase lì. Vabbè, ho capito. Però ho fatto serata con Tupac. Assurdo. C'è Tupac.